LUC 4316 Ho preso un cervo dalla coda bianca, com'è possibile nella prima mappa prendere un cervo dalla coda bianca? Che non ci sono E com'è possibile il manu trovare due cervi e tutte e due femmine? Porca troia No, questo vuol dire sfiga però Ah eccolo, vaffanculo 21.600 Minchia No, questo vuol direttore è un po' di più No, questo vuol direttore è un po' di più Quei fagioni davano di erno Sì 8.800 punti Minchia Cometto femmina Ciao a tutti ragazzi sono Luke e benvenuti in The Hunter, Luke il cacciatore Partiamo con questo video subito dal sito perché vorrei spiegarvi un paio di cose che mi avete chiesto Allora, questo qua è il sito ufficiale di The Hunter, questa qua è la mia pagina personale Dove potrete vedere il livello, le mie cacce, le mie missioni aperte eccetera eccetera Qua ho messo anche una galleria di foto di animali che sono riuscito a catturare E qua, se appena riesco, metterò anche i video di Youtube Poi, mi avete chiesto come mettere il gioco in italiano Dovete andare su My Account Andate su Impostazioni E andate su Località Località, giusto? Sì Località Mettete l'orario eccetera eccetera E qua selezionate la lingua in italiano O la lingua che voi volete Poi torniamo sul profilo Vi faccio vedere un'altra cosa Se andiamo in Cacciare Abbiamo delle missioni, che sono missioni per noi Giusto per salire di livello, fare più punti e imparare eccetera Poi ci sono belle classifiche mondiali E le competizioni Le competizioni cosa sono ragazzi? Ci sono diversi tipi di competizioni C'è la prima per i cervi, la seconda per i fagiani eccetera Ogni giorno aggiungono delle competizioni nuove Come vedete, io vedete qua c'è scritto disattiva perché ce l'ho attivata Io sono dentro questa competizione, le altre sono tutte concluse Intanto come vedete qui Martedì 22 ne inizierà un'altra Cioè oggi Non so a che ora perché devo vedere l'orario se io ce l'ho giusto Comunque sia oggi inizia un'altra competizione Che finirà il 24 Quella che ho io È iniziata È iniziata È iniziata È iniziata Se non mi ricordo male Ieri Finirà il 24 Ah no, è iniziata oggi, scusatemi È iniziata stamattina alle 6 Adesso che mi ricordo E finirà il 24 In cosa consiste? Vi faccio vedere, basta cliccare Allora, bisogna beccare la specie, il cervo mulo Nella riserva logger point Di armi possiamo usare qualsiasi arma Punteggio, il punteggio più alto dell'animale che voi cacciate E poi deve essere maschio Poi inizio fine Tentativi illimitati Come vedete c'è la classifica E con me gioca anche mio cugino Akim Bonanoz C'è il suo account E notate che Akim Bonanoz è in classifica del dodicesimo In questa competizione che è iniziata stamattina Perché ha catturato un cervo No, ne ha catturati due o tre Se non erro Però il più grande che aveva lui Gli ha dato 155.000 punti Perché era abbastanza cicciottello 101 kg se non mi sbaglio E... eccetera Poi ci sono altri tipi di competizioni Potete attivarle tutte contemporaneamente Poi quando andate in giro per il mondo In base all'animale che beccate Vi dà i punti in quella competizione Andiamo nei faggiani Ne ho due attive addirittura Perché una inizia fra 17 ore Deve ancora iniziare E l'altra è iniziata ieri alle 6 E finirà, finirà, finirà Fra 17 ore finisce Solo che questo ormai è impossibile da vincere ragazzi Perché vi faccio vedere Anche qui Akim Bonanoz è in classifica Ed è 17esimo Con 17.000 punti Ci sono anch'io in classifica in teoria Sono 27esimo con 8.000 punti E qui bisogna uccidere i faggiani Vi faccio vedere Ah, ci sono anche i premi logicamente Il primo vince 100M Che sarebbero i soldi nel gioco Il secondo ne vince 50 E il terzo 25 Bisogna beccare il faggiano Logger point sempre quella di prima Armi qualsiasi permessa Peso totale massimo Tiro al volo Cosa vuol dire tiro al volo? Bisogna beccare il faggiano E fischiare con il tasto T Una volta che noi fischiamo Il faggiano si spaventa Inizia a volare E noi dobbiamo beccarlo in volo Perché se lo beccate Quando è a terra O in altre circostanze Non vi verrà contato il punteggio E, 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 e I premi Ah, dicevo i soldi M Poi volevo ringraziare anche un'altra persona Che non mi ricordo il nome Comunque non vuole pubblicità Mi ha fatto Mi ha regalato dei soldi Nel gioco sempre di M Io ho acquistato alcune cose Tipo un fucile, uno zaino, ecc Basta andare qua in negozio Vedete il negozio del cacciatore E qui si possono acquistare Le varie tesserine Per le mensilità Per, come si dice Le licenze Io ho acquistato questa qua Da 19,99 dollari Che sarebbero intorno ai 15 euro Per tre mesi E comprende tutta questa roba Poi ci sono i dettagli E poi qui come vedete Anche si possono acquistare O regalare i punti EME Poi, poi, poi Cosa volevo farvi vedere Un'altra cosa Vediamo un po', torniamo a profilo Andiamo sempre in negozio Ma andiamo in Dox, Houghton, Trenterter E qua ci sono tutte le cose da acquistare Vedete Queste sono quelle che io possiedo E l'ultimo che ho acquistato È il fucile .300 Della bolt action Che va bene per tutti i tipi di animali Poi ho acquistato Sull'equipaggiamento Ho acquistato questo zaino Che mi permette di avere il doppio dell'inventario di quello di partenza e poi c'è un sacco di roba ragazzi ma entriamo subito nel gioco ah per giocare tanti ve l'han chiesto ragazzi ma non è un tutorial c'è il semplicissimo hunt new andate qua scegliete la riserva da dove volete partire io dovrò partire dal punto logger perché è dove io ho le missioni attive le competizioni scusatemi basta premere start e vi partirà il gioco poi un'altra cosa che volevo dire è quella che ragazzi se farò altri video o quando farò altri video li farò con la risoluzione bassa nel senso la grafica molto bassa perché riesco a giocare a prestazioni elevate ed è una cosa fantastica ragazzi la grafica è veramente bellissima ma mi fa i video veramente pesanti cioè l'altro giorno ho caricato un video di 2 minuti e ci ho messo 2 ore e mezzo per caricarlo per cui mi toccherà giocare a grafica scarsa e ragazzi il video è finito spero abbiate capito quasi tutto comunque bisogna iscriversi il gioco è free to play poi se volete licenze sono a pagamento ragazzi io vi saluto vi lascio con un paio di spezzoni di video di uccisioni che ho fatto se non mi sbaglio ho ucciso un maiale ho ucciso un coyote un coyote che io cercavo un cervo alla fine ho beccato il coyote vabbè ma da Luke è tutto ciao a tutti grazie a tutti 36.000 punti l'ho preso all'intestino 36.000? si 16 kg preso preso maiale ma non l'ho ucciso vedi se te lo conta col nuovo fucile un colpo è sciottato quello che è un maiale punteggio 342.000 oh la madonna polmone destro ah l'ho preso il polmone sinistro e il polmone destro l'ho perforato è una femmina 155 kg maiale selvatico ah è vero che tu c'hai la competizione del maiale quella lì aperta si però non mi ha dato punti per la competizione